ah eccoci qua ancora c'è un po di tavolata apparecchiata c'è anche il mio computer sto lavorando per fare alcune alcune libri con i video anche i gatti giustamente come cotonello ognuno si prende la sua serie una qua e un'altra tranquilli e luciana bella tranquilli come sulla sedia si mette tranquillamente c'è la tavola apparecchiata non toccano perché li faccio mangiare spesso se no tranquillamente si mettono qua vedete qua da venite venite volete attirare i gatti sanno tutti i gatti già la scatoletta questa la vedono così così sì già faccio che muovo questa bustina vedete che sentono proprio il rumore già vedi come vengono sanno già il rumore di questa bustina incredibile vedi tutti i particolari sanno i gatti dice questo è buono andiamo beh io facendo questa procedura quando li trovi in giro li riesco a raccogliere adesso 1 2 3 4 e 5 ne manca uno che è fuggitivo dall'altra parte 6 gatti sono in mia presenza queste sono delle ruote l'ho prese alla cifra completa ecco quelle diciamo originale anche se i copertori sono proprio originale della quattro per quattro dieci euro i cerchioli ma la fatta 25 euro una ruota nuova ricoperta quindi sono 35 euro a ruota completa e io durante l'estate metto queste qua perché sono meno quelle tacchiettate sono impegnative sto pensando ai mozzi liberi ma al momento non ci voglio pensare altri cerchioli troppo nella mia macchina c'è un casino di cerchioli questi sono i cerchioni della 600 addirittura quindi forse marbella questo non è neanche cerchione originale della 4x4 non so perché non l'abbia trovato io allora sono la panda normale sono una panda 750 la panda mille insomma quella non 4x4 ecco però c'è tutto un casino adesso su queste macchine perché se non hai dei cerchioli sempre che la macchina non girano le ruote ecco questo che farò io quando prima saranno puliti bene perché sono messi benissimo che si cerchioli c'è un poco poco di patina ma sono ancora perfetti vengono un pochettino carteggiate poi verniciati col primer quello di fondo e poi metteremo un colore tipo grigio chiaro una cosa del genere un argento ma devo vedere ecco li faremo diventare bellini che poi anche queste ne sono brutti e la hanno solamente diciamo qua ce n'è uno due c'è la metà dei fori quelle della 4x4 ne volete quattro cerchi 400 euro oppure malconci tipo 50 euro l'uno ormai diventato una cosa io al momento non ci voglio pensare questi vanno pure benissimo 35 euro a ruota è che di manca adesso c'ho quelle tacchettate però per il collaudo preferisco mettere queste qua meno davanti così almeno sono più nuove il collaudo ci sarà entro questo mese ecco beh io vi saluto do la bustina legate perché ovviamente sennò poi se le prendi giro dopo non ci cascano più